Questo video riguarda i migliori tre rampe per auto. Il vincitore della qualità è il Warren Rampa di carico. È un prodotto innovativo, una soluzione unica per i consumatori di carrozzine, o motorini, nonché un oggetto adatto per uso in altre situazioni di vita. Questa rampa barra piattaforma, che si chiude in due volte, è facilmente pieghevole e molto comoda da portare in mano, trasportare in auto, e da stoccare, anche se a prima vista non assomiglia ad una cosa piccola e leggera, comunque grazie al suo design unico, lo stoccaggio ed il trasporto della rampa è particolarmente comodo. La rampa è munita di una maniglia, che permette di piegarla in modo compatto, e così renderla due volte più corta e due volte più stretta. Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta qualità che rispetta le normative in 131 EC, che garantisce leggerezza, resistenza e durata, ed offre il fascino aggiuntivo per questo prodotto. Capacità massima di tutte le nostre rampe è 272 kg. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il V1 rampa pieghevole. La prova di carico è stata eseguita dal laboratorio riconosciuto in tutto il mondo come un laboratorio affidabile e serio per una capacità di carico di 200 kg e una forza applicata uniformemente di 3000 n e non sono state osservate deformazioni o rotture. Questo prova che le nostre rampe sono di buona qualità e ti garantiscono un uso ottimale e sicuro. La superficie della nostra rampa è ricoperta da fuori antiscivolo per aumentare l'attrito. Migliorerà notevolmente la sicurezza durante l'utilizzo. La superficie di appoggio smussata della battuta garantisce una grande stabilità e evitare lo scivolamento. A differenza delle altre rampe sul mercato, la piastra del nostro prodotto è stata trattata per garantirne la capacità di carico. Questo rende questa rampa più solida e non si deforma. Il vincitore del premio è il V1 rampa di carico. Le rampe sono realizzate in acciaio zincato e trattate contro la corrosione. Possono sostenere un carico fino a 200 kg per rampa, ovvero un totale di 400 kg per coppia. Le rampe sono ideali per caricare in sicurezza moto, tosaerba e trattori. Inoltre, con una superficie con rilievi antiscivolo e piastre di stabilizzazione, garantiscono una buona stabilità. La prova di carico è stata eseguita dal laboratorio TUV riconosciuto a livello mondiale come laboratorio affidabile e serio per una capacità di carico di 200 kg e una forza applicata uniformemente di 3000 n e non sono state riscontrate deformazioni o rotture. Questo test certifica che le nostre rampe sono di buona qualità e ti garantiscono un utilizzo ottimale e sicuro. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.